Ciao a tutte, questa è la mia video recensione sul CND Vinilux, il nuovo nato in casa del brand americano ormai conosciutissimo ed apprezzatissimo in tutto il mondo, grazie soprattutto al suo semipermanente Shellac CND stavolta ci propone un prodotto che può essere utilizzato da tutte, anche dalle non professioniste e soprattutto nella comodità di casa propria, quindi quando si vuole senza bisogno di particolari strumenti e nemmeno di particolari abilità in questo video dunque non voglio solamente presentarvi il prodotto ma anche condividere con voi la mia esperienza passo passo insomma questo video verrà registrato in diversi giorni in modo da potervi mostrare l'applicazione, la rimozione ma anche una carrellata di foto in cui potrete vedere voi stesse come lo smalto ha reagito al test di resistenza Nell'info box inoltre troverete i link agli articoli che ho scritto in merito anche sul mio blog Innanzitutto che cos'è il CND Vinilux e quali novità introduce? Nella linea Vinilux possiamo trovare 62 tonalità di colore suddivise in colori opachi, semitrasparenti e trasparenti inoltre include un top coat apposito chiamato weekly top coat Il Vinilux si presenta in tutto e per tutto come uno smalto comune e si applica e si rimuove esattamente come uno qualsiasi degli smalti che avete in casa vostra Il primo step dunque è la preparazione dell'unghia che deve essere ben pulita altrimenti lo smalto non aderirà bene CND consiglia di utilizzare il suo scrub fresh Mi raccomando non saltate mai questo passaggio poi che andiate ad utilizzare lo scrub fresh, un altro prodotto similare o che vi laviate semplicemente accuratamente le mani con un sapone neutro e poi le asciugiate bene, ha poca importanza L'importante comunque è che andiate a preparare bene l'unghia che non deve avere residui di nessun tipo Un'altra novità introdotta dal CND Vinilux è che non occorre applicare un base coat una base protettiva perché la formulazione dei colori della Vinilux è fatta in modo tale che non vadano a macchiare l'unghia sotto In ogni caso se voi preferite continuare ad applicare la vostra base perché magari state utilizzando una rinforzante, un indurente e non la volete abbandonare, non volete interrompere il trattamento potete assolutamente farlo Io sulla mia mano destra sto testando il CND Vinilux già da 5 giorni e su alcune unghie ho applicato una base, su altre no il risultato è sempre lo stesso, lo smalto finora è impeccabile non si è minimamente rovinato né sulle unghie dove ho applicato la base né dove non l'ho applicata Procediamo quindi all'applicazione dando una prima mano di colore e nel frattempo, mentre stendo lo smalto vi do qualche dettaglio in più su questo tipo di prodotto CND garantisce una durata minima settimanale del Vinilux quindi c'è la possibilità di cambiare colore sulle unghie più frequentemente di quanto non accada col semipermanente che in genere dura dalle 2 alle 3 settimane e soprattutto c'è bisogno di andare dall'estetista per poterlo applicare ma al contempo non ci si deve stare a preoccupare di avere delle sbeccature o del consumo in punta del tip wear precoce quindi dover cambiare lo smalto abbastanza frequentemente Un piccolo trucchetto che io uso sempre con qualsiasi tipo di smalto per farlo durare di più è quello del tip wrapping ovvero non vado a colorare solamente l'unghia ma anche il margine libero in alto come sto facendo in questo momento secondo me oltretutto si ottiene anche un risultato più carino al di là dell'implementazione della durata dello smalto stesso Ora posso passare a stendere una seconda mano di colore per poter coprire bene la linea dell'unghia e per avere anche l'intensità desiderata non occorre aspettare tra una mano e l'altra perché il prodotto asciuga davvero rapidamente E ora posso passare alla stesura del mio weekly top coat Nella cartella stampa CND parla di smalto top coat vinilux come di un sistema specificatamente creato per funzionare in sinergia La tecnologia brevettata ProLight genera una potente rete di polimeri a legame incrociato che garantisce resistenza alle sbeccature e una maggiore durata man mano che le unghie vengono esposte alla luce solare Quando si parla di questioni scientifiche io mi rivolgo sempre al mio fidanzato che è l'esperto di casa perché io sono assolutamente una capra su queste cose Comunque come ho già scritto sul mio blog lui ci spiega così questa tecnologia Innanzitutto cos'è un polimero? È una lunga catena formata da una singola unità che si chiama monomero che si ripete in sequenza Le catene di polimeri che costituiscono lo smalto hanno delle caratteristiche di fluidità altrimenti non si potrebbe procedere a una stesura omogenea per poter coprire tutta l'unghia Asciugando però queste catene non sono unite da un forte legame e quindi lo smalto si può sfaldare causando sbeccature, crepe, ecc Per ovviare a questo problema la tecnologia ProLight di CND promette dunque di creare grazie all'azione di un componente contenuto nel weekly top coat un legame tra le catene in modo da formare un reticolo che renderà più resistente lo strato di smalto Come succede ad esempio anche nelle resine dentistiche la creazione di questo legame verrà favorita dall'azione dei raggi UV che sono comunque contenuti nella luce solare ed è proprio per questo che si parla di tecnologia ProLight e di azione implementata dalla luce naturale Riprenderò il video tra qualche giorno per mostrarvi la rimozione del CND Vinilux Pink Bikini che è il colore che ho indossato io in questo video ma soprattutto per vedere i risultati della prova su strada E rieccoci qua sono passati 8 giorni da quando ho applicato sulla mano destra il CND Vinilux Pink Bikini e sono invece 3 giorni e mezzo da quando l'ho messo anche sulla mano sinistra nel frattempo ci ho anche realizzato una piccola nail art una one stroke con delle rose vi metto molto velocemente una foto di questa one stroke e nell'info box vi metto invece il link al post dedicato sul mio blog direi che CND ha mantenuto le sue promesse perché dopo 8 giorni lo smalto è quasi impeccabile c'è solo un leggerissimo tip wear sui lati delle unghie che vi faccio vedere sempre meglio nel dettaglio con le mie foto in questa prima foto vedete come il pink bikini appare dopo 6 giorni mentre in queste successive il dettaglio del tip wear insomma nonostante le innumerevoli docce gli innumerevoli lavaggi di capelli dovuti anche al caldo di questi giorni lo smalto ha tenuto veramente molto bene a questo punto non ci resta che togliere lo smalto e verificare se è vero che si rimuove tranquillamente e facilmente con un comunissimo acetone io utilizzerò come faccio sempre un prodotto di essence ovvero il nail art nail polish remover ultra lo trovo estremamente efficace e delicato ma al contempo pulisce anche rapidamente e soprattutto è molto economico verso un po' di prodotto su un batuffolo di cotone se preferite utilizzare dei dischetti struccanti meglio ancora perché lasciano meno peluchi e vado a procedere come sempre appoggio leggermente e lascio un po' in posa e poi vado a strofinare via tutto lo smalto insomma come potete vedere voi stesse non c'è assolutamente nessuna differenza tra la rimozione del cn di vinilux e quella di uno dei tanti smalti che abbiamo nei nostri cassetti ok finisco di rimuoverlo e tra poco con le conclusioni su questo prodotto ed eccomi qui di nuovo con le mie unghie insolitamente nude in conclusione questo cn di vinilux mi è piaciuto molto trovo che sia un prodotto adatto soprattutto a chi non ama stare a cambiare colori di smalto troppo spesso e soprattutto non ama trovarsi delle brutte sorprese come delle sbeccature di tipuer precoci al contempo lo trovo adatto per chi non vuole orientarsi verso il semi permanente per svariati motivi perché non ha voglia di andare dall'estetista perché non ha tempo di farlo perché preferisce cambiare colore più spesso insomma io sono davvero soddisfatta di come è andata questa prova su strada del cn di vinilux e sicuramente lo riutilizzerò in quei periodi in cui magari sono in vacanza e non ho né voglia né tempo di stare lì a cambiare smalto alle unghie tanto spesso spero che questo video vi sia stato utile vi mando un bacione e a presto qui su youtube o sul mio blog ciao